buonasera capo è aperto il distributore è self-service polpa da te dai cussi buona me ogni modo che viene e mette muta la somera metti il pieno al plus e il pieno fai il pieno va bene i pulisco il vetro no è solo taglia messa in piega ok che mi hanno voglia trappi vizi tanta somera bella somera sportiva è grazie l'ho completa che i piaci più senza piume no? l'ho comprata da seconda mano con le ricche e la zampa maggiore dove erano serie e dopo il resto è modificata da me si è bella però ultimamente la gente scompra me una vacca una chebra e che la gente ultimamente dai soldi bravo e siete in pochi la somera eh ma tu con cui è arrivato il prezzo del pieno oggi giorno è normale certo quanto si consuma stasomera ma una gregna ci farò cento chilometri quanto? cento si consuma un po troppo c'è l'ho appiccina tu qui ci vuole ah se noi da un'occhiata io c'entra mettete a folle tiro la prizione tiro? si lascia tira un'altra volta lascia sgassa sgassa un'altra volta spriziona forte spriziona è una munichina scarbureta ma sarà sfiatetta no scarbureta e sarà anche sfiatetta ma li ha aperto i cacarelli della coppa dell'olio si ma dimmi quant'è la cosa di via? sono tredici mila e cinquecento euro è calata no? si è che la gente ha cominciato a sfarrare o hanno abbassato il prezzo si ma l'ho sfarrato orrende 13 mila e cinquecento no? si signore ascolta gli organi li accettate? si ma c'è un anestetista in cassa muta trocca a fare senza si vuole no 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 senza anestesia non la saste ah no? no è che non è la stessa cosa non è uguale tia guarda ti acquisti vuoi la fattura la ricevuta? no niente niente acquisti nelmeno 15 mila e cinquecento ah glielo il resto glielo ah grazie aspetta guarda la righella è un pettine che anche se sei più letto c'è la liscia il petalasso mera no?